Finisce in una bellissima giornata primaverile la Easter Regata organizzata dal Circolo Vela Arco per la classe 29er. Salgono sul podio, sul secondo scalino, gli arcensi Margherita Porro e Luca Fracassi del Circolo Vela Arco. Davanti in prima posizione i cecchi Simon Marekic e Jan Svodoba e terzi Nicolò Codeghini ed Edoardo Gamba del Circolo Vela Toscolano Maderno. I tre equipaggi si sono dati battaglia fin dalle prime prove, continuando a scambiarsi le postazioni del podio prova dopo prova. Molto bene anche il resto della squadra dei 29er di Arco, allenati da mister Lorenzo Bianchini, che si piazzano nella parte alta della classifica, tutti entro le prime dieci posizioni. La Easter Regata è una delle principali di quest'anno del Circolo Vela Arco, riservata ai campioni del 29er, classe velica che annovera tra le file arcensi e quindi italiane, importanti nomi della vela. Ospiti del Circolo Vela Arco, 20 equipaggi principalmente italiani, seguiti a ruota dai campioni tedeschi e croati. Una regata evento, ma che servirà da palestra per calibrare il tiro in previsione di appuntamenti di carattura internazionale e nazionale.